ciao a tutti ragazzi ben trovati in questa nuova analisi oggi affrontiamo una cripto che non ho mai visto prima torchain allora come al solito non sono consigli finanziari ma è la visione dei mercati sono fabrizio ferri analista tecnico dei mercati finanziari andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta combinando in questi giorni ha fatto nelle ultime 24 ore intanto importanti volumi di scambio siamo sui 212 milioni e ha fatto un bel più 13 per cento ma vediamo l'ultimo l'ultimo periodo allora già valeva sui 5 dollari e verso fine marzo aprile parte la consagrazione e devo dire che il vero salto lo sta facendo adesso quindi ci sono volumi importanti che personalmente fanno presagire ad una al vero lancio di rune andiamo a vedere il grafico su aspettate un attimo che questo eccolo qua andiamo su rune appunto su binance vediamo il trend trend fortemente rialzista ha avuto storni significativi questo è un grafico weekly storni importanti che però hanno non hanno compromesso la corsa rialzo probabilmente ne vedremo un altro momento non posso dirvi con esattezza quando però probabilmente ce ne sarà un altro andiamo a vedere un grafico un po più lento un daily perché come vediamo eccolo qua ci presenta alcuni punti interessanti in questa zona qui in questa zona qua su questi massimi che vengono più volte testati il trend è ancora fortemente rialzo quindi nulla fa pensare ad uno scarico più importante in questo senso il trend rialzista l'unica l'unica nota che posso dire stonata tra le tante positive è il fatto dei volumi che comunque leggermente in calo almeno su binance quindi ecco cerchiamo di non giocare con queste cripto cerchiamo sempre di gestire in maniera critica e appunto logica l'operatività è un mercato estremamente volatile quindi consiglio da un punto di vista proprio tecnico stretto di mettere degli stop ampi quindi gestiamo bene il discorso volatilità mettendo degli stop ampi anche entrando magari in ritardo riduciamo le sites ma gestiamo degli stop che siano i più ampi possibili in modo totale da non venire beccati poi dal mercato anche perché qua si tratta di investimenti quindi ecco non parliamo di trading veloce anche perché sarebbe troppo frenetico e sarebbe difficile farlo in maniera sistematica anche per conto proprio insomma torchain ragazzi mi convince il trend è molto buono per chi ancora non fosse iscritto consiglio di iscriversi al canale perché invece magari volesse avere delle informazioni per quello che riguarda l'ebook che ho creato tempo fa ormai è disponibile sul sito da moltissimo tempo è gratuito ovviamente poi dall'ebook c'è la possibilità di passare al corso il tutto lo vedrete o meglio lo vedrei lo vedrai lo vedi tranquillamente sulla giù in descrizione quindi ecco molto semplice vai giù e sfrutta anche l'opportunità di poter se sei interessato pagare il corso 199 anziché 269 fino al 15 di maggio quindi mi raccomando impegnati perché studiare vuol dire offrirsi un vantaggio perché molto spesso e te ne parla uno che all'inizio si è scottato con le cripto sicuramente tutti quanti ci saranno passati perché quando uno si avvicina ad un mercato del genere molto spesso è preso dalla frenesia di poter fare soldi ecco invece io ti dico che se riuscirai ad impostare un'operatività logica avrai molti più vantaggi e quindi ecco sarai meno vittima di questo mercato perché comunque tutti sono contenti in queste fasi di crescita illogica però prima o poi capiterà che qualcosa andrà storto e qualcuno si farà male come già sta succedendo in questi giorni comunque alla prossima iscriviti al canale e ci vediamo presto su malati per le cripto grazie a tutti